good morning anche se direi più buon pomeriggio visto che qui sono le tre e mezza mister master maestro o semplicemente o semplicemente david lynch it's january 22 2022 and it's a sunday in naples 50 fahrenheit 10 celsius and this means that è quella giornata veramente 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 fredda come in questi giorni in questo periodo anche se come sempre invito sempre a vedere il mio video di qualche settimana fa che ho fatto sul freddo in cui ho parlato di quelle due pratiche che utilizzo non per vincerlo che è possibile come sto ripetendo spesso ma quanto riguarda il video sui pensieri lo faccio sempre separato da questo anche se non ho molto comunque da dire sì anyway as you just see from the window today we have we have those beautiful blue skies and golden really golden really beautiful blue skies all and sunshine all along the way ovviamente tra meno di due ore perché tra meno di due ore qui subentrata la sera quindi già l'abbiamo avuti all along the way bene in questi casi nulla da dire say that is so from the mythical window with the colored curtain sublime oggi nulla da dire and it's green the roller shooter behind me near me on the top or air in the short and finally from my mythical keyboard yamadi gx 640 ipg ipg e 125 have a great day him all the people follow the channel and the reports sì un saluto veramente a tutti mi raccomando il video sui pensieri è separato da questo so again have a great day him all these people and everyone too sui pensieri non è nel passo se l'abbiamo se l'abbiamo Grazie.